Un saluto dallo Stadio Militare Albricci dove da qui a poco avverrà la cerimonia di consegna degli attestati ai ragazzi che frequentano la Federazione Italiana Nuoto. Siamo con il vertice del Comando Militare Esercito Campania, il Generale di Brigata Antonio Raffaele e l'Avvocato Paolo Trapanese, Esercito e lo Sport per il Futuro di Napoli, nell'ambito di una convenzione di couso tra il Ministero della Difesa e l'Esercito e lo Sport per il Futuro di Napoli. Generale Raffaele, molto abbiamo fatto per il sociale in questa struttura che posa i suoi punti cardini su scuola, chiesa, sport e forze armate. Sì, l'Esercito in cooperazione con il CONI ha messo su queste attività, ha organizzato queste attività per questi ragazzi che altrimenti non saprebbero dove andare a svolgere attività sportive. Grazie sempre, ripeto, a questa cooperazione, tutti i giovani possono svolgere diverse discipline, tra cui il nuoto, il rugby, l'atletica leggera, il tennis da tavolo, il tennis, il pugilato. Grazie a questo, molti di questi ragazzi, anche in cooperazione con le scuole, con la scuola, la chiesa e le altre istituzioni, possono passare diverso tempo in questi ambienti sani e pieni di legalità. Ecco, Avvocato Trapanese lo disintetizzava bene il generale, lo Stato militare al Bricci, una struttura atipicamente militare, aperta al sociale, ma che costituisce anche un polmone di verde e di sport in questo quartiere. Sì, la presenza dell'esercito, in particolare nello stadio militare al Bricci, per il territorio è una presenza fondamentale, perché, come diceva il generale, accoglie i giovani del territorio e consente loro di non fare solo un'attività sportiva, ma di avere anche delle indicazioni di disciplina, che sono quelle dello Stato, quelle delle leggi dello Stato, e in più con la presenza della chiesa e della scuola. Quindi non solo semplici attività sportiva, ma a questi ragazzi che vengono accolti in questo stadio si dà la possibilità di avere degli altri punti di riferimento certi che sicuramente gli cambieranno la vita in futuro. Ecco, Avvocato, dicevamo alto valore sociale, diverse discipline, ma in talvolta è stato anche oratorio per alcune chiese, sono venuti diversi parroci, quindi massima apertura sociale. Siamo partiti da due o trecento ragazzi e invece oggi qual è lo Stato dell'Arte? Beh, siamo oltre i mille certamente, ed in particolare ecco la differenza è proprio questa, che oltre a fare attività sportiva, questi ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi, fanno dei seminari con la chiesa, cioè padre Danilo, che è un incaricato della Curia di Napoli, che ha dei seminari settimanalmente, uguali ci sono delle rappresentazioni, delle presentazioni del Ministero della Difesa per le missioni all'estero, che danno, fanno capire a questi ragazzi l'importanza, prima gli danno il senso dell'accoglienza e quindi della difesa in questo campo sportivo, ma poi gli fanno capire l'importanza dello Stato verso l'esterno, il senso dello Stato, le missioni di pace, che cosa vuol dire lo Stato e che cosa vuole dire il rispetto delle regole, che cosa vuole dire fare per il pubblico, fare per gli altri. Ecco, siamo alla vigilia del terzo anno della firma del protocollo di uso condiviso, un esempio da esportare perché questa struttura, addirittura con i progetti, è in anticipo sul cronoprogramma dei lavori. E' così, è sicuramente un nuovo modello educativo, tant'è vero che già anche le università, da ultimo, due settimane fa siamo stati all'Università di Salerno, probabilmente vuole essere adottato come nuovo modello di educazione, e per la verità questo progetto, proprio lo Stato Maggiore della Difesa, ha detto che realizzato sarà esempio per farne altri in tutta Italia. Ecco, Generale, dicevamo non solo a vantaggio degli altri, ma anche addestramento per la Forza Armata, qui vengono anche altri corpi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, che cosa fanno i nostri militari e che cosa fanno le altri corpi armati che ce ne fanno richiesto? Bene, dato che il complesso Abrici è veramente un complesso polifunzionale molto valido, molto efficiente, quasi tutte le Forze Armate presenti sul territorio napoletano e anche i corpi armati dello Stato vengono da noi sia per fare il mantenimento dell'efficienza fisica, sia anche per fare le prove di valutazione fisica necessarie ed indispensabili per poter continuare il servizio attivo. Ecco, dicevamo di un cronoprogramma in anticipo, quali saranno i futuri lavori che verranno ultimati? Bene, nello stadio Abrici dovrebbe completarsi adesso la denso struttura per poter svolgere attività di pugilato, sono anche in programma la costruzione di nuovi spogliatoi e nuovi servizi, così facendo sicuramente si potrà anche ampliare la ricettività dello stadio. Ecco, in conclusione Avvocato Trapanese, oggi a noi questi ragazzi che abbiamo scolarizzato da un punto di vista militare al loro ingresso, che faremo una cerimonia per due concorsi, di che si tratta nella piscina? I ragazzi che frequentano i corsi di nuoto fanno anche dei concorsi ogni 15 giorni per la migliore pagella, per il migliore risultato, per la migliore educazione e in questo modo si assegnano delle borse di studio gratuite per l'anno successivo ai più meritevoli o a quelli che hanno delle particolari difficoltà. Ci saranno anche altre autorità del mondo dello sport e diplomatico? Sicuramente ci sarà il presidente del CONI provinciale, certamente, forse quello regionale, ci sarà il presidente di Alma Mundi, che è l'avvocato danesi, che è il console del Nicaragua, ci sarà il presidente del Pugilato, Enrico Apa, ci sarà l'organizzatore della Capri Napoli, Luciano Cotena, ci saranno i rappresentanti di Millecoluri, Palmieri, Porzio, Pino Porzio, quindi sicuramente c'è una giusta attenzione verso questi giovani e verso il territorio. Sergio Roncelli, presidente provinciale del CONI Napoli, siamo allo stadio militare al Bricci per una cerimonia importante, consegna di diplomi, ma sotto un osservatorio, quello del CONI eccezionale, è una convenzione di uso condiviso, difesa a CONI. Sì, ci troviamo qui allo stadio al Bricci per una premiazione del nuoto. Lo stadio al Bricci è un punto di riferimento a livello nazionale per quello che è stato fatto, è un progetto pilota che ci viene invidiato da tutti e che sarà sicuramente copiato da molti. Avevamo qui una struttura in disuso, un accordo nazionale con il Ministero della Difesa ha permesso la rinascita di questo stadio. Questa è proprio una dimostrazione di come l'unione fra forze diverse può produrre buoni furti e può essere anche un buon esempio per molti politici. Quali sono le federazioni che interagiscono con voi nello Stato militare al Bricci? Attualmente abbiamo il nuoto, il rugby, l'atletica, il pugilato, il terrassegno e il tennis tavolo ma ben presto apriremo sicuramente a tutte le altre federazioni, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva appena il progetto sarà ottimato. Ci tengo a precisare che il progetto attualmente è sicuramente in un ottimo stato di avanzata formazione perché la piscina funziona, il campo da rugby funziona, la pista di atletica nuova è entrata in funzione, entro pochi mesi entrerà in funzione anche il pugilato che sarà dato dalla federazione alle fiamme oro e quindi ci troviamo sicuramente a buon punto. Ecco Presidente, una struttura anche importante da un punto di vista storico che è l'unico velodromo dove Toppi tagliò il traguardo del Giro d'Italia e tanti altri primati. Sì, sì, io come Presidente del CONI lo dico anche subito, sono già stato contattato dal Presidente della Federazione Ciclistica il quale vuole usufruire di questa pista per fare soprattutto ciclismo amatoriale, quindi anche la pista a breve sarà sicuramente perché c'è un grosso interesse da parte della Federazione e comunque è una pista che si trova al centro della città, quindi la federazione può fare molto. Un'ultima cosa, lo stadio è a vantaggio soprattutto del sociale? Sì, sì, questa è la prima cosa. Noi come associazione al Bricce e l'esercito per Napoli abbiamo fatto la convenzione con la Curia, abbiamo fatto la convenzione con l'ufficio scolastico regionale perché queste strutture possono essere usufruite anche dai ragazzi delle parrocchie, delle scuole e quindi c'è una grossa attività anche dal punto di vista del sociale. Grazie a tutti.